Nominato il nuovo assessore della giunta francese che subentra alla dimissionaria dottoressa Stefania Vecchio. In una nota ufficiale della comune si legge figura politica di lungo corso, sebbene la giovane età del dottore Davide Bruno ha ricoperto fino a giugno scorso l'incarico di segretario del PD cittadino per poi dimettersi anche da iscritto ed avviare un percorso civico che lo ha visto spesso confrontarsi con la sindaca francese, confermando un'attenzione positiva verso l'azione di questa amministrazione del resto già manifestata in occasione del ballottaggio delle elezioni del 2016, allorquando da segretario del PD dichiarò esplicitamente la libertà di voto, favorendo la vittoria della sindaca francese. Nei prossimi giorni la sindaca presenterà la giunta comunale nella sua composizione con l'indicazione delle deleghe attribuite a ciascun assessore.